Attività fisica e attività ludica, qual è il tuo ruolo all'interno di questo locale? In questo locale io sono un promoter degli e-sports, mio amico Francesco Lillacci ha aperto da poco questo locale, molto ben strutturato per quanto riguarda la possibilità di fare delle competizioni a livello videoludico e quindi relazionarsi con le persone, questa è una possibilità che viene data appunto in questo locale, ossia delle sfide videoludiche e in contemporanea la possibilità magari di adoperare la sala pesi che è di sotto. Io sono anche personal trainer e questo locale diciamo permette in primo luogo di fare degli e-sports, quindi delle competizioni videoludiche e nel contempo se c'è la possibilità di sfruttare la parte più sportiva, più pratica che si svolge nella sala pesi sottostante a questo locale. Quindi è un modo di promuovere sia gli sport virtuali sia lo sport appunto fisico e sano. Io principalmente promuovo gli e-sports non tanto per il ruolo che hanno videoludico ma per la possibilità di mettere, come già detto, in relazione le persone. Quindi anche chi non è in grado o chi ha la possibilità di praticare degli sport fisici, pratici, ha la possibilità di competere, quindi sempre sana competizione nell'ambito videoludico. E questo è un ottimo locale che permette appunto tale possibilità. Grazie.